È solo tramite la risposta positiva a queste domande che allora siamo sicuri di intraprendere l'esperienza del matrimonio. Dottore, abbiamo deciso di sposarci, ma io me la sto facendo sotto. Ho paura del matrimonio. Magari ti sei trovato o trovata a pronunciare queste parole. Magari l'hai già affrontato, magari ti stai trovando in questo momento, oppure nella relazione c'è profumo di matrimonio e quindi sai che da qui a poco probabilmente arriverà la richiesta. Bene, in questo video provo ad analizzare proprio questo. Qualche riflessione legata alla paura del matrimonio. Nella fattispecie ce ne sono cinque di situazioni, paure principali legate al matrimonio, divise in tre diverse categorie. Una categoria prettamente relazionale, quindi che ha a che fare con l'altra persona, una categoria intima, privata, personale, e una categoria che ha a che fare sia con l'aspetto personale, che relazionale, che sociale. E adesso vediamo meglio in che cosa questo consiste. Prima però di partire a spiegarti quali sono queste cinque paure, faccio una piccola premessa, ma fondamentale. Avere paura del matrimonio è una cosa legittima e le paure che sto per elencare, che poi tendenzialmente finiscono sempre con un punto di domanda, sono tutte paure che devono essere affrontate, ascoltate e capite. E quindi a tutti questi punti di domanda in qualche modo poi si deve dare una risposta, meglio se affermativa. Però sono domande che ognuno di noi si deve fare, anzi, farsi questo tipo di domande non è sbagliato, non è un problema, non vuol dire che allora non si è innamorati della persona, non ci si vuole sposare e via discorrendo. Ma vuol dire provare a mettersi in dubbio, in discussione, a riflettere in modo tale da essere più capaci, più consci nell'affrontare le sfide che la vita ci porrà davanti. Ok, quindi basta premesse, andiamo a bomba sugli argomenti. Tre categorie abbiamo detto, partiamo da quella relazionale, quindi quali sono le paure principali legate alla relazione. Punto numero uno, più semplice in assoluto, dubbi sul sentimento o sulla persona che si sta per sposare. Quindi ci si chiede, è la persona con la quale voglio passare, trascorrere la mia vita? È la persona giusta? Io amo questa persona? Il sentimento che provo e che quindi mi sta portando a questa scelta è effettivamente così intenso da essere definito amore? Io voglio rascorrere il tempo con questa persona? Quindi parte più semplice. Punto numero due, sempre all'interno della tematica relazionale. Paura della compatibilità a lungo termine con questa persona, ovvero ho conosciuto questa persona in un momento particolare, adesso ovviamente ci stiamo trasformando, perché solitamente insomma si arriva alle nozze dopo un certo periodo di relazione. Effettivamente la persona che adesso, la persona che immagino diventerà, è ancora la persona che voglio? O io sono ancorato o ancorata all'idea della persona che era, magari della persona che ho conosciuto, ma ora stento a vederle? Quindi è più una scommessa quella che faccio e non sono sicuro o sicura che effettivamente ci sarà compatibilità sul lungo periodo. Categoria numero due, legata soprattutto alle tematiche, come dicevo, personali, più intime. Il punto numero tre, quindi il punto numero uno di questa seconda categoria, è la preoccupazione legata al vincolo. Non ha tanto a che fare con la relazione, io so di amare la persona, sono innamorato di questa persona, desidero stare con questa persona. Però l'idea di vincolarmi, l'idea di in un qualche modo legarmi per sempre, la vivo come una catena. Sento che è una sorta di gabbia alla mia libertà, alla mia autonomia, alla mia indipendenza, all'affermazione di me stesso o di me stessa. E quindi ho paura. Ho paura che il matrimonio mi sottragga qualcosa come persona. Punto numero quattro o due della seconda categoria è la paura dell'impegno a lungo termine. Se nel primo caso avevamo paura dell'autonomia, dell'indipendenza, del non avere più capacità di affermare se stessi, qui la paura è sul lungo termine, quindi sulla staticità, sul fatto che questo per sempre sia effettivamente per sempre, che io debba tenere fede a questa cosa, che quindi in un qualche modo nulla sarà più mutevole, modificabile, nulla si potrà trasformare. Ovviamente questa è una convinzione che può essere anche errata, anche come tutte le altre, però è una paura che effettivamente si presenta, fa capolino. L'idea di questo per sempre che risulta essere in un qualche modo eterno ed immodificabile. Punto numero cinque, ma anche il punto unico e numero uno della terza categoria è la paura di non essere all'altezza delle aspettative del partner e della società, genitori, parenti, amici, persone alle quali abbiamo detto ormai adesso ci sposiamo e via discorrendo. Per questo dicevo ha una componente sia personale, sia relazionale, sia sociale, perché ha proprio a che fare con l'idea di non essere all'altezza di soddisfare e rispettare le aspettative nei confronti delle persone a noi care. Ora, so che ho fatto una carrellata, ne ho dette tante, fammi sapere, fammi sapere se effettivamente ti ci ritrovi, se li hai vissute, magari solo ad alcune, hai fatto riferimento, magari ad altre no, scrivilo nei commenti. Quello che voglio nuovamente sottolineare prima di salutarci è proprio questo, che è comprensibile, anzi dal mio punto di vista sano avere questo tipo di domande in testa, perché è solo tramite l'affermazione, la risposta positiva a queste domande, che allora siamo sicuri, nonostante magari la fifa del momento, di intraprendere l'esperienza del matrimonio, l'avventura del matrimonio. Perché altrimenti se a queste domande non troviamo risposta, perché magari neanche ce le poniamo, inevitabilmente stiamo imboccando magari una strada anche sensata, però con gli occhi bendati, senza aver guardato bene che cosa c'è intorno e che cosa effettivamente la vita ci può riservare e se quello che stiamo costruendo è effettivamente ciò che noi vogliamo dalla nostra vita. Ti ricordo che per non perdere nessun aggiornamento devi iscriverti al canale e attivare la campanella. A presto!